Chiederei ai consiglieri se sono d'accordo di saltare la premessa, dobbiamo procedere, se siete tutti d'accordo, dobbiamo procedere alla elezione dei componenti della commissione elettorale, i componenti della commissione elettorale sono una o tre, di cui la maggior la minoranza deve essere rappresentata, quindi se siete tutti d'accordo, io salto la premessa e inviterei a ricostituire l'unificio degli sfruttatori, dei tre sfruttatori, Ranieri, Ragosta e Ortolò. Dobbiamo eleggere tre consiglieri, tre componenti effettivi e tre sostituti, con la stessa modalità. Grazie. 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 consigliere Ambrosio, consigliere Ampiziana, consigliere Torino, consigliere Catarelli, consigliere Consolino, consigliere Sanico, Grazie. Grazie. Ruotolo, Ragusta, Alberti, Alberti Carrera, Emanuele Ragusta, Ruotolo, Manuele Ragusta, Ruotolo, Manuele Ragusta, Alipetti, Alipetti, Ruotolo, Ragusta Emanuele, Ruotolo, risultati dello scrutino, Ruotolo voti sei, Ragusta voti cinque, Alipetti voti cinque. Quindi risulta regolarmente letta la commissione elettorale costituita dai consiglieri di Ruotolo, Alipetti e Ragusta. Vodiamo i suplezzi. Grazie. 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 Procediamo con l'operazione di voto. Grazie. 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 Ambrosio Atlusiato Autolino Consigliere Caldarelli Consigliere Alonso Consigliere Perenico Consigliere Ionino Marignano Roscivino Felice di Naziello Emanuele D'Agosta Vincenzo Ranieri Glutolo Tutti lo esprimiamo Passiamo alle relazioni di scondiglio Rangeli Marignano Ranieri Autolino Ranieri Ranieri Marignano Autolino Marignano Marignano Autolino Autolino Marignano Autolino Autolino Sostituto Ranieri Ranieri Resultati dello scondiglio Ranieri Voti 6 Marignano Voti 5 Autolino Voti 5 Marignano Marignano della delimbra, ma volevo all'unità passiamo alla frattazione dell'ultimo capo